I carabinieri della stazione di Fano hanno tratto in arresto nella serata di ieri un 50enne albanese con dimora a Fano per violenza e resistenza pubblico ufficiale e false dichiarazioni sull'identità personale. Dopo alcune verifiche il cittadino aveva fornito agli agenti delle false generalità dichiarando il falso anche sul luogo di residenza, su richiesta dei militari di raggiungere l'abitazione per visionare i documenti di riconoscimento, l'uomo ha improvvisamente iniziato la fuga intimando una leggera collutazione con uno degli agenti prima di essere definitivamente bloccato. Dagli accertamenti è emerso che il 50enne aveva fornito generalità non veritiere così come il luogo di residenza situato in una zona diversa da Fano. Questa mattina si è svolta la convalida con contravvenzione per la normativa anticontagio ed è stato rimesso in libertà.